Buonasera amici. Adesso entriamo in diretta. Buonasera amici. In Danno Patiamo, invitiamo il team Badiani. Adesso vediamo che ci sono dei problemi con la campiera di corsa. Intanto facciamo entrare i team Badiani così intanto li abbiamo in diretta. Buonasera. Non sentiamo noi però. Buonasera a tutti. Buonasera. 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 No, toglilo. Non si sente lì. Non si sente lì. ... Grazie. Tieni, l'aspetto usciamo e rientriamo. Adesso, probabilmente adesso li mettiamo un po' meglio così. Buonasera, buonasera Francesco. Buonasera. Come va? Va bene, adesso sei pronto per questa diretta? Ma sì, dai. Ci sono giusto un po' di persone del team Badiani, io ad uno, quindi non... Mega diretta, direi. C'è giusto un po' di gente. Non si vede nessuno. Ci sentite? Sì. Eccoci. Allora, sono qua con alcuni dei ragazzi della Badiani, non ci sono i nostri direttori sportivi perché sono in riunione in questo momento. Però abbiamo qui uno dei veterani che è Alessandro Tonelli, cerchiamo di stringerci un pochino. C'è Filippo Zana che non è più nel progetto giovani perché lui ormai è già per i grandi balconscenici, però comunque farà 24 anni, freddo di tour dell'avenir, di mondiali, esattamente come Lupe Connani. Invece poi ci tenevamo, visto che c'è richiesto del progetto giovani, ad avere qua i due più piccoli della nostra squadra, ma anche del gruppo di quest'anno, ossia a Pinarello Pellizzari. Si uniranno a noi, poi più avanti anche altri ragazzi del team che sono qui dietro, ma per questioni di spazi non ci possiamo stare tutti. Sì, intanto il ragazzo che è con me, che è Francesco Bort, che è di Alicorsa, corso, sia con Perizzari, che con tutti i due ragazzi che mi avete presentato prima. C'è con Giori Perizzari, c'è con Pinarello, Francesco di Alicorsa, corso con Entambia, corso stagione, quindi mi fa piacere vedere in molti anni. Io correvo nel Ballerini. Cosa? Correvo nel team Franco Ballerini. Franco Ballerini è stata una gran squadra, penso allo scorso, perché avevano anche Sprecek. Sente, ditemi voi. Intanto vogliamo chiedere, voi che siete più giovani, come vi sentite ad entrare in questo progetto per anni e andare a 23 anni? Per ora tutto bene, comunque io sono parte della mia scelta, penso anche Giulio. Adesso abbiamo fatto questo primo ritiro con la squadra, il primo vero e proprio ritiro. Ci siamo allenati, siamo qua in Spagna e abbiamo fatto un buon carico di lavoro tutti insieme e penso che continueremo molto bene comunque con questo progetto e poi con le gare. Francesco? Hai sentito tanta pressione dal passaggio da junior ad under 23? Ma sinceramente non troppo. La squadra ci fa stare tranquilli e noi siamo felici. Sappiamo che se faremo le cose come si deve riusciremo a ottenere i risultati. Vi voglio chiedere, cosa vi aspettate da come primo anno di Team Anel 23? Sinceramente c'è stata data già l'opportunità di poter crescere all'interno di questa squadra e quindi poter apprendere consigli, anche metodi, movi, di allenamento e corsa dai più vecchi, chiamiamoli così. E poi comunque penso alla disposizione sicuramente della squadra e fare il meglio che possiamo comunque. Avete già un calendario? Sapete a quali gare parteciperete? Sì, inizieremo in Croazia il 2 e il 6 marzo. Poi continueremo con le gare internazionali in Italia, San Vendemiano, Valvedere, Piva, Palli del Recioto e poi così via. Adesso vi voglio chiedere, cosa vi ha fatto prendere la scelta di entrare nel Team Bardiani e Anel 23? C'è stato qualche motivo che vi ha convinto del progetto Bardiani? Sicuramente è stata l'opportunità di poter avere consigli comunque da ragazzi con qualche anno più di noi, quindi anche più di esperienza sicuramente. Poi il fatto di poter correre all'estero e fare diverse esperienze sicuramente è molto molto importante. Poi sicuramente abbiamo compagni di squadra che hanno fatto gare importanti, che hanno vinto gare importanti, quindi se c'è qualcuno che ci può aiutare a fare questo siamo nel posto migliore, credo. Voi che siete appena usciti dai junior, potete dirci qualcosa che serve al ciclismo giovanile per migliorare? Eh, difficoltà qua. No, cercare sempre di fare comunque le cose fatte bene, seguire quello che viene detto, secondo me senza strafare o, come dire, intestartirsi troppo su certe cose, cercare di fare tutto fatto bene e poi tutto arriva. E adesso voglio parlare un attimo con Filippo Zaner, Filippo Zaner che ha il terzo anno di Bagiani, quest'anno è il tuo terzo anno. Ti voglio chiedere, visto che sei al terzo anno, cosa ti aspetti da questo terzo anno, visto che comunque hai già 23 anni, insomma. Non so, bisogna andare forte, vedremo sicuramente un anno in più e più esperienza, però vedremo, ci sono tanti che vanno forte e noi speriamo di essere in grado di competere con loro e vedremo. Quest'anno hai fatto una bella stagione e io ti volevo chiedere, soprattutto sugli europei Under 23, quali sono le tue sensazioni dopo il sesto posto? Ma penso che abbiamo fatto un'ottima gara, sia mia personale che sia di squadra e avevamo programmato prima del via, insomma, che doveva essere un po' andare così e così è andata. Poi c'è arrivato un gruppetto ristretto, poteva andare meglio, però una medaglia d'argento e io un sesto posto importante. Penso che come nazionale siamo andati molto bene e poi il risultato non è arrivato grosso, ma penso che abbiamo fatto un'ottima figura, insomma. Per te sono arrivate quattro vittorie dal professionista in questo 2021, teatro Tour d'Avenir e sei vato settimo alla tappa di Giro d'Italia, a diciottesima tappa. Cosa prova un ragazzo di 22-23 anni che si trova a competere con i campioni al Giro d'Italia? Ma sicuramente è una bellissima esperienza e devo ringraziare a Bardiani perché è già il primo anno che ho fatto il Giro d'Italia, che penso che non sia da tutti. Mi ha fatto crescere molto e speriamo continui così e di crescere sempre di più, insomma. Al Tour dell'Avenir hai sfiorato il successo e sei arrivato terzo in generale. Come sono state le tue sensazioni? Ma avevo un bel periodo di forma e quindi sono andato bene e poi ho trovato due più forti di me, però è stata sicuramente un'ottima esperienza e penso sia andata molto bene. Come ti sei avvicinato al cicatismo? Come ti sei avvicinato al cicatismo? Ma diciamo che già da piccolo andavo subito in bici, ma così per scherzo. Poi un amico di famiglia mi ha portato nella squadra del paese e da lì è iniziato tutto. Ho iniziato da quando avevo sei anni e poi non ho più smesso. Negli ultimi anni con la pandemia e con il Covid, come è cambiato il mondo del ciclismo in generale? Diciamo che il primo anno da professionista non abbiamo corso molto perché c'è stato il lockdown. E poi è cambiato che forse è un po' tutto più ristretto, anche i tifosi non si possono... Ci sono più restrizioni, al Giro d'Italia e anche le gare, bisogna essere dentro la bolla di squadra. Forse è un po' tutto più brutto perché non si può stare troppo a contatto con i tifosi, però dai, sempre è un bellissimo mondo essere qui nel ciclismo. Quale ti aspetti da questo ultimo anno, diciamo, nel 23, anche se comunque tu sei già in prima squadra, per cui si può dire? Ma non so, vedremo. Speriamo di far bene. Quando eri piccolo chi era il tuo idolo in bici? Marco Pantani è sempre stato il mio idolo, anche se non l'ho proprio visto in diretta le sue imprese, però mi è sempre piaciuto, ho sempre guardato tutti i suoi film e insomma è stato lui per me il mio idolo. Voglio dire due ragazzi, giovani dietro, che Giovanni Visconti li sta guardando e ha scritto cosa ridete, cosa ridete, ridietro? Cose che succedono... Quindi voglio dire, grazie Giovanni, che tu li puoi fare da chiozza a questi giovani ragazzi. Dopo chiederò anche a Giovanni se per caso entra in diretta a lui, se per caso hai già fatto degli scherzi nei confronti dei giovani, qualche gavettone o qualcosa. Scusa, se hai fatto qualche scherzi, non mi scordo. No, dai, sono tutti simpatici con le squadre, cioè non abbiamo mai avuto problemi, quindi tutto regolare, dai. Si ride, si scherza e ci sta bene, ci sta bene, ecco. Adesso stavamo parlando di tutti, adesso chi entra adesso? Entra lui. Ciao a tutti! No, io farei intervenire, visto che faceva ringere tantissimi i nostri giovani qua dietro con un po' di sanononismo, Staccia Modoro che è nascosto là dietro. Ecco! Da solo? No, non da solo. Dai, dai. Interrogato, buonasera. Adesso ci vediamo come ospiti, diciamo, i più vecchi, diciamo. Ah, grazie. Siamo vecchi? Partiamo bene con l'intervista. No, che non sarai più vecchio, Giovanni è più vecchio. Io non vi sento, ragazzi, scusate, ma io non vi sento. Ci senti Giovanni? Sì, mi sembra un po' indifferente. Giovanni non è qua. No, no, è su in camera, connesso dalla camera. È connesso? Sì, sì. Scrivi nel gruppo, scrivi collegati e dai buon esempio. Se intanto volete fare qualche domanda, lascia mentre aspettiamo a Giovanni. Sì, sì. Intanto vai tu, Francesco. Io ti volevo chiedere come mi hai scelto il progetto Bardiani dopo l'Alpesin. Ma non è stata una scelta, non è che avessi un sacche alternative. È stato più che altro Bruno a convincermi a continuare perché io ero più indirizzato a smettere che a continuare. Bruno mi ha… Sono stato al telefono un po' con Bruno e mi ha un po' convinto a riprovarci, ecco. Soprattutto insisteva sul fatto che potrei essere utile non solo per soddisfazione mia personale ma anche per il complesso della squadra, appunto perché ci sono tanti giovani per poter insegnare e trasmettere qualcosa a loro. E se avessi smesso cosa avresti fatto? Lo sai? Non saprei. Non saprei. Non ci ho neanche mai pensato. E ci stavo pensando ma… Perché non riusciamo a vedere? Intanto stavo a casa con la famiglia, me la vodevo un po'. Visto che quel lavoro che facciamo non riusciamo proprio ad essere presenti al certo per cento. Poi io vede e provvede. Perché non riusciamo a vedere? Intanto stavo a casa con la famiglia. Come stiamo andando, dove è Spagna? Va bene. Ci stiamo avvicinando alle prime corse. Abbiamo fatto tanti chilometri. Dove è Spagna? E… Va bene. Ci stiamo avvicinando… Il Google lo vedo anche bene. Sì, sono giovani ma… Proprio oggi abbiamo fatto dei test. Abbiamo visto dei numeri anche importanti. Dopo vediamo se riusciamo a mettere questi numeri anche nelle corse e dimostrare insomma di esserci. Però il gruppo c'è e come l'ho detto loro ci divertiamo anche tanto. Che forse un po' quello mi mancava a me visto da dove venivo. E quindi per ora procede tutto bene. Hai qualche corsa in cui vuoi far bene quest'anno? Tutte. Non ho una cosa in particolare. L'obiettivo è tornare un po' quello che ero una volta. Nel senso che ero più o meno sempre competitivo. Che poi vincevo… Eh, dà problema. Ma comunque ero sempre lì ecco. Poi dove viene o dove arriva non ho particolari… No, quando ci colleghiamo non spuntano più loro. Intanto gli sconti firari sono indifferita. Non si sa perché ma i colori account sono indifferita. Quindi… No, non riusciamo a vedere… No, abbiamo già contattati però non mi hanno risposto anche se hanno visualizzato. Ma… Vediamo solo voi due. Ah, non vedete uno? No. Cacchiamo… Forse deve uscire qualcuno… Ma ci sono adesso. Sì, ma… No, no. Massimo di quattro, quindi… Io adesso li vedo. Sì, sì, non ci sono. Adesso non vediamo i nostri compagni. Fa la pagina che carica sempre, ma non vediamo. Ah. Però non è più… Adesso? Però non è più indifferita. Ti sentiamo indiretti. Ci sono. Perché non li vediamo, no? Sul telefono di Pienarello li vediamo. Ah, sono di te. L'ha su quello della Bardiani? E chi è questo telefono? Il mio. Il profilo Bardiani. Non li vediamo. Sono collegati però. Comunque, una domanda per Sascha. Adesso che non si è più in squadra con Van der Poel, lo riesci a battere? No. No, non lo so. Forse in volata, hai qualche volata particolare magari. Ah, no. Sono corridori di un'altra categoria, ecco. Sì, no? Noi non vediamo voi. Pestemmirei a dire sì, lo batto, ecco. Magari può succedere, ma non è che ci credo tanto. Sì, sì, adesso lo dico dai. Gli anni scorsi quando correvi con lui sentivi pressione? No. No, anzi, la pressione era tutta su di lui. Io dovevo solo aiutare lui, quindi io avevo proprio zero pressioni. Alla volta dovevo tirare le volate a Philips. No, no, anzi, era un gol che non avevo mai fatto quello del gregaro dell'ultimo uomo e onestamente mi piaceva anche, mi dava soddisfazione. Ma pressioni proprio zero. Adesso vi vorrei chiedere, secondo voi vedremo il team Bardiani il World Tour fra qualche anno? e cosa manca un team? Vedremo il team Bardiani il World Tour e cosa manca a Bardiani o un team italiano per fare i grandi giorni? Manca i soldi. Cioè la base del World Tour è i soldi. Non ci vuole... è inutile girarci tanto attorno. Dopo quei soldi la squadra viene da sé, quando hai i soldi fai tutto. Alla Bardiani non è che mancherebbe tanto. quando aumenti un po' lo staff e magari qualche corridore di qualità così e aggiungi qualche altro corridore, la squadra in sé è fatta. ecco, non è che... ci vuole che sai che... questa domanda però non devi farla a me, che non gestisco la squadra di Bardiani e Roberto Reverbri. che idee hanno loro? Onestamente loro si sono creati la loro realtà da 40 anni e no da 1 o 2. Nel loro piccolo hanno sempre fatto qualcosa, magari un po' meno negli ultimi anni, ma perché hanno tutti i corridori di 20 anni, non si può neanche pretendere che mincano 20 tappe al giro. Però a loro hanno sempre fatto la squadra. Dove ci sono squadre grossissime che hanno chiuso nel passato, loro continuano. Poi se vogliono fare World Tour, non lo so, onestamente non lo so. So dirti cosa manca, che alla fine quello sono i soldi. E in Italia è difficile trovarlo. E si sente il peso di una squadra World Tour mancante, italiana? Sì, soprattutto per i giovani. Soprattutto io che ho fatto quattro anni all'estero, gli italiani, i giovani non li guardano, non gli interessa. Nell'Alpec, nel loro caso, guardano i giovani olandesi, i belgi. E dopo, se qualche procuratore bravo riesce a proporre il giovane italiano, ok. Se no, non li guardano. Noi, una squadra come la Bardiani sarebbe perfetta se ci avesse come anni fa. C'erano due o tre squadre World Tour italiane. Allora ti fai la gavetta qua alla Bardiani e chi ha numeri passa alla World Tour. Sarebbe giusto, soprattutto adesso che la Bardiani ha iniziato il progetto giovani, con i più giovani proprio da Juniors farli passare. Sarebbe l'ideale che è quello che fanno all'estero. All'estero praticamente i dilettanti non ci sono. Sono tutti di Continental, passano direttamente professionisti, tra virgolette. Ok, fanno gare minori, ma sono professionisti. E poi hanno le varie World Tour. Hanno la Lotto Jambo, la Lotto Sud, l'Alpecci e là passano. A noi manca questo. Adesso, come ultima domanda, poi dopo passo spazio un attimo a Giovanni Visconti. Intanto voi vogli che vi allenate tutti insieme? Quindi i giovani ragazzi si allenano con voi? Sì, poi dipende da programma a programma. L'altro giorno noi abbiamo fatto i 200 km e loro non c'erano. Quando noi abbiamo fatto il lungo lungo, loro non l'ha fatto. Dopo invece quando c'è da fare qualche lavoretto sulle quattro ore, sì, sono con noi. Francesco, se vuoi fare un'ultima domanda e poi dopo ci colleghiamo con Giovanni e Filippo. Volevo chiedersi se ci sarebbe qualche regola dell'UCI che cambieresti. Mi fa una domanda a me che potrei stare qua ore. Ma no, per ora mi mette in difficoltà perché saprei cosa rispondere e non saprei cosa rispondere. Ci sono tante cose che non vanno bene, tante cose sì. Però adesso dirti cosa cambierei su due piedi qua non mi viene niente niente. Adesso voglio un attimo dare sparte a una cosa. A Giovanni. Io ho capito. Te vuoi tutti i sconti. Chiamatevi i sconti. No, aspetta. Stavo facendo una cosa, stavo cercando un documento in cui potete fare gli auguri. Intanto fai Francesco se vuoi fare un'ultima domanda a loro. Non ho capito Federico. Se vuoi fare un'ultima domanda a loro. Sì. Ma sempre a me o anche ai giovani? Io fai una domanda anche ai giovani. Beh, a Sasha volevo chiedere se sarai la mia o Sanremo. Sì. In teoria se ci invitano sì, sarò presente. Come sapete noi dipendiamo dalle wildcard, quindi aspettiamo le wildcard. Nel caso in cui siamo invitati a Sanremo penso proprio di farlo sì. Ok, grazie. Vi lascio ai giovani. Vi lascio ai giovani. Io vi lascerei collegare su con... Lasceremo noi spazio magari a Giovanni e Filippo che si possono collegare dalla loro stanza perché loro sono in stanza. Noi sono collegati, quindi come dicevi. No, credo possano dalla stanza però perché loro sono altrove rispetto a noi. Ne siamo rimasti giù. Vi ringraziamo e salutiamo e lasciamo spazio a Giovanni e Filippo. Grazie a voi per essere intervenuti in diretta. Siete stati veramente fenomenali, soprattutto i giovani ragazzi. Facciamo un new book al gruppo ai giovani ragazzi. Grazie, grazie. Grazie. Mi raccomando vincete. Cercate di vincere e vi vogliamo vedere tra qualche anno i vostri tografi. va bene, va bene. Ciao, grazie. Grazie, buona serata. Buona serata, grazie. Grazie. Grazie a tutti. Adesso invitiamo, non so se Giovanni o Filippo. Vediamo con Filippo. Visco. 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 intanto vediamo deve essere rifiutata una richiesta che ho fatto ho invitato sia ok vediamo adesso entra Filippo Fiorelli e Giovanni no vai eccoci ci siamo? sì ci vedete? sì 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 perché poco fa sicuramente gli dava fastidio la linea dell'hotel a tutti e due collegati intanto come state ragazzi? beh sembriamo due sceni così accanto però dai tutto bene 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 dove va il ritiro? vai te vai te dai tirati sei giovane no sta facendo tutto bene adesso stiamo affettuando questi dieci giorni prima delle prime gare per diciamo rifinire la l'ultima diciamo allenamenti della preparazione e poi ci misuriamo con gli altri per vedere a che punto siamo Giovanni con tutti questi giovani chi ci sono? come ti comporti? beh mi sento ancora più vecchio mi sento ancora più vecchio no non è vero scherzo è bello per me perché comunque vivere ancora queste situazioni con i ragazzetti giovani mi fa sentire sempre come al primo anno ci vogliono degli stimoli particolari arrivati alla mia età perché è un ciclismo sempre più duro e i giovani mi aiutano io penso che è una cosa ci scambiamo qualcosa entrambi perché io provo a consigliare loro do un'aiuto a loro e loro involontariamente aiutano me adesso all'alba dei tuoi 39 anni cosa hai ancora da chiedere al ciclismo professionistico? ma io non devo chiedere niente al ciclismo mi ha dato tanto mi ha dato tutto quello che ho a partire dalla mia famiglia credo che il mio l'ho fatto non sia diventato un campione ho avuto una dignitosa carriera quello che chiedo io ancora è magari qualche briciolo di gioia vedermi ancora ogni tanto lì a lottare con questi giovanotti che vorrebbe dire tanto per me e mi ripagherebbe insomma di tutta la fatica per tornare a a buoni livelli che sto facendo visto un anno passato disastroso ecco e il maestro Ugo ci chiede si ritirà prima Visco o Pozzo Vivo? ma vabbè sarà una domanda così per ridere perché comunque penso né io né Pozzo rubiamo il posto a nessuno anzi anzi credo che per quanto mi riguarda sarà questa stagione a dirmi se se per caso c'è una possibilità di continuare un altro anno oppure se è giunta l'ora di smettere non sono quello che si vuole tirare indietro la bici per anni senza avere i risultati come è successo l'anno scorso ma l'anno scorso ho avuto problemi fisici problemi di salute seri che mi hanno condizionato e non potevo assolutamente chiudere in quel modo perché non pensavo non penso di meritarmi ecco di chiudere una stagione così senza farmi mai vedere senza essere mai presente nei miei ordini d'arrivo e nemmeno essere tanto aiuto alla mia squadra vorrei chiudere divitosamente come credo di meritare voi siete compagni io volevo chiedere a Filippo compagni di stanza intanto sì 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 noi siamo compagni di stanza e e basta e grandi amici grandi amici no basta sicuro voi per quello di cui ti non ha gomitato e grandi amici e non sono tantissimi anni che ci conosciamo fate conto che ogni tanto Filippo mi fa vedere delle foto dove lui non si ricorda neanche di me quindi io non ricordo nemmeno d'avere le fatte con lui in Sicilia quando andavo giù ai tempi della della Movist alle primi anni e ci allenavamo già insieme però si è installato un rapporto bellissimo e tanta della mia serenità adesso in giro per il mondo e anche grazie a questo rapporto che c'è tra me e lui ci automotiviamo e insomma penso che è una cosa che fa bene entrambi lascia in buone mani diciamo sì sì assolutamente anche per quello stiamo sempre vicino e cerco di consigliarlo nel migliore dei modi perché a Palermo dopo di me rimane lui e gli auguro davvero di fare almeno quello che ho fatto io ma anche di più ora fa delle domande a lui già lui parla tanto Filippo ti volevo chiedere una gara che a cui punti quest'anno ma puntare sicuramente è difficile magari quella che in cui magari mi piacerebbe provare a fare bene ma non tanto per per vincere perché sarei stupido dire provare per vincere la Sanremo provare a a sognare di di vincerla perché già arrivare sul poggio e stare con i primi non sarebbe per niente male so che è difficile però ci stiamo lavorando e speriamo di di riuscirci allora io ti aspetto sul poggio davanti vai perfetto allora se non lo vedi passare aspetta ancora un pochino ma che guarda adesso vediamo un attimo i commenti Cavalli sembra di conoscerlo mi sembra che questo ragazzo qui arrivò secondo dietro di me a un gran premio Inda se non sbaglio dito sulla via Magalli se te lo ricordi rispondi intanto che intanto che risponde vediamo un attimo i commenti Michele Copporio dice Visconti è una risorsa per i giovani il Coppo grande eh sì risorsa dai sinceramente credo di poterlo essere l'esperienza ce l'ho questa è la mia stagione della maturità 18 anni da professionista che non sono pochi in un ciclismo così difficile e ora rido e scherzo sempre però è una cosa che mi piacerebbe fare riuscire a seguire i giovani insegnare qualcosa a loro di quello che ho appreso io in tutti questi anni capisco anche che però e lo sa anche Michele che non è così semplice perché i giovani di oggi tendono anche un po' a essere super schematici giustamente perché sono cresciuti così non hanno vissuto un altro ciclismo e quindi per me forse sarebbe un po' più difficile parlare la loro lingua però è sicuramente una cosa che mi piacerebbe a proposito di giovani cosa ne potenziate del progetto Under23 secondo me è un gran bel progetto ce ne fossero in Italia la possibilità di dire sono un professionista ma faccio un calendario adatto alla mia età e alla mia crescita soprattutto quindi gare internazionali tutte le gare più importanti dei dilettanti in giro d'Italia le classiche speriamo di fare anche le classiche più importanti è uno step un gradino il gradino migliore che ci possa essere in questo momento per poi arrivare al professionismo vero nessuno insomma ci vieta di portare ogni tanto qualche giovane anche dall'altra parte a fare qualche gara un po' più importante con altra gente al via e di fare quel tipo di esperienze secondo me è un gran progetto Adesso vi vorrei chiedere intanto se i DS si sono liberati per caso sono ancora a riunione Io non lo so perché noi siamo in camera già pronti per andare a letto a dormire questa cosa non lo sappiamo C'è qualcuno dei ragazzi che è in collegamento qualcuno dei giovani No loro erano in un'altra sala noi siamo in camera purtroppo non posso aiutarti in questo Vai Francesco intanto se per caso esco dalla diretta e mando un messaggio a Luca si vede lo schermo nero quindi non riesco a non ho possibilità di contattare Luca e sapere se ci sono i DS liberi Anzi ancora comunque non si sono fatti vivi credo che siano sempre l'unione secondo me a quest'ora di solito loro perché finiscono di cenare tardi i direttori rispetto a noi possiamo parlare del Milan se vuoi dell'ingiustizia dell'arbitro come si chiama se ti pare se non sappiamo cosa dire possiamo dire io volevo chiedervi anche se ancora presto per parlare del Giro d'Italia però dato che passa in Sicilia volevo chiedervi cosa vi aspettate Sì parte dall'Ungheria però dopo la prima tappa italiana è in Sicilia quindi come sempre se io sia Giovanni daremo sempre il meglio di noi stessi per provare a vincere e provare a fare qualcosa di buono nella nostra terra poi non so tu se la tua terra è la Toscana e vuoi fare un uno sgarbo se pensa per te che l'Inter sta vincendo e mi girano le scatole venga vinciamo un a zero state guardando i partiti no no abbiamo letto scritto il commento che vince l'Inter purtroppo l'Inter sta vincendo uno a te o cosa confermare Sicilia al Giro d'Italia capisci che è anche una cosa assoluta il fatto di correre in Sicilia dicevo soprattutto per me che ho 39 anni poter dire forse parteciperò a un altro giro che passa ancora in Sicilia è tanta roba ma aspettiamo aspettiamo perché la stagione è strana dobbiamo arrivarci prima al Giro e vedere come stiamo non è detto ecco vuoi commentare l'albito di Mina Spezia la tifosa mia lista l'ho detto prima ma preferirei muovere questo già non ha dormito una notte la sera ha già sofferto Fiore perché non gli ho parlato per un giorno non mi voleva parlare si chiudeva in bagno piangeva lasciamo stare dai eh oh se non ti fosse scatenato io poi qualche volta faccio una diretta mentre lui guarda il Milan mi faccio vedere un po' il vero Visconti calciatore il tifoso 5% ragazzi ci si spegne il telefono mi si spegne dal telefono ragazzi no abbiamo poca batteria vabbè comunque tanto è arrivata l'ora di andare a letto a che ora ti ho letto la sera ora qui guardiamo un po' di Netflix una serie tv così niente di che ma dopo le 10 10 si spegnono tutti domani giornata lunga com'è domani avete una giornata lunga domani avremo doppia specialità andremo anche sulla bici da crono faremo dei lavori anche lì sicuramente almeno 5 rette si faranno credo ci stiamo allenando bene tanto tanto ma bene in Spagna come mai tutti i team molti team si vanno in Spagna perché una volta c'era la la cosa che c'era caldo adesso caldissimo non c'è no a parte quello temperature normali magari per me che sono siciliano a casa mia ci sono 15 16 gradi qui dai per te che sei un meridionale dai 12 ai 15 gradi per me è caldo chiaro però a parte quello il fatto è che in Italia non c'è cultura al sud dell'Italia soprattutto che si potrebbero si potrebbero organizzare ritiri anche in Sicilia non sai quanti posti il problema è che non c'è una cultura di questo tipo perché vai giù ti chiedono un sacco di soldi non ti aspettano non ti aspettano magari per pranzare alle 3 alle 4 come pranziamo qui noi non c'è proprio paragone spendi meno a venire in un hotel 4 o 5 stelle in Spagna in bei posti dove le strade sono anche migliori di aereo non spendi ormai praticamente più niente spendi il doppio o il trip andare giù in Sicilia non c'è questo interesse è sbagliato però secondo me sarebbe meglio riempire gli hotel di ciclisti anche a prendere meno però rimanere aperti che chiudere poi alla fine sarebbe una quarantina tra personale corridori solo una squadra solo una squadra qui c'è tutto c'è tutto eh sì super giù una quarantina tra direttori corridori meccanici massaggiatori se moltiplichi per il numero di squadre sarebbe un bel business ma non c'è questa mentalità voi quanti siete come team 20 corridori per adesso poi 4 direttori 4 meccanici 5 massaggiatori quindi 30 e qualcosa 35 quanti siamo adesso chi va chi viene dai mandaci a letto dai che è tardi vi mando a letto ragazzi vi diamo buonanotte alla prossima ciao una buona serata ciao ci dispiace non aver trovato il direttore sportivo libero però buonanotte ragazzi eh mi dispiace ma io non so che dirti su direttore ciao 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 grazie